Gorgheggio paesano. Io sono un cittadino, ma abito in paese e quando c'è il mercato vado a fare le spese. Con la gente civile sono placide e cortese e quando è tempo buono gioco sulla maese. Se c'è da dare aiuto sono rapido e palese e miglioro alla ribotta ad ogni fine mese. Se c'è qualcosa rotta sono maneggiare l'arnese e con le belle donne allento le pretese. Quando ci sono litigi evito di fare offese e asciugo le mutande messe su corde tese. Della corrente so sa spesso le prese. Mangio fagioli e verze, poi fragole e cerese. A chi mi rega danno sempre gli do le vese. Le becce e recafone ogni orsi sono arrese. E a chi si dà gran tono dimostro che è cretese. C'ho i calziti be ma come golle mese e per stupir la massa mi vesto dalla iassa. Francesco Zuccarini Stop 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 Stop